Musica Questo è un pazzo scatenato, un pazzo scatenato Hanno le mosse che fa? Hanno le mosse che fa? Sta zitto! No, non c'è sto zitto! Sta a sentire che sta a finire il video! C'è ormai cinque minuti! Porca miseria! Oh, ecco, le mani magno! Ma quanti tappini? Quanti tappini? Bisogna fuori e me fa l'intervento per togliere l'oro dell'orecchia per toglielo Però a me non reala tagliamo l'orecchia per te, capito?